Ben trovati all'appuntamento con elettori ed eletti, la nostra rubrica con i mag dei candidati al Parlamento, i candidati alle politiche 2018. Oggi siamo in compagnia di Francesco Spina, grazie per essere con noi. Francesco Spina che è candidato per il Partito Democratico nel collegio Puglia 3, quello che comprende i comuni di Biceglie, Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo e Corato. Un collegio composito che vede appunto protagonista Francesco Spina. Francesco Spina che è stato il più longevo sindaco democratico di Biceglie, cominciando sin dal Medioevo, fin dal 1400, possiamo dire che è il sindaco più longevo perché è stato in carica oltre 11 anni e mezzo. Un traguardo importante che ha interrotto nello scorso mese di settembre proprio per tentare di portare le istanze del territorio all'interno del Parlamento. Una sfida sicuramente importante anche alla luce di questa legge elettorale che è davvero complicata e che sta anche disorientando un po' i cittadini. Può apparire, intanto buonasera e grazie naturalmente per l'invito, può apparire complicata questa legge elettorale ma è anche un elemento di semplificazione del quadro. Diventa orientativa sui territori la scelta dei candidati sull'uninominale. Gli elettori troveranno i candidati scritti con il loro nome sulla lista, sulla scheda che verrà aperta dagli scrutatori. Quindi nel mio caso ci sarà scritto il nome Francesco Carlo Spina e questo, come per gli altri candidati, a mio modo di vedere è un elemento di chiarezza e di semplificazione. è evidente che ci saranno poi le liste collegate. Alla mia candidatura ci sono collegate ben quattro liste oltre a quella del Partito Democratico ci sarà quella della lista Bonino, quella della lista dei socialisti e quella della Lorenzini e Casini per intenderci. Quindi ci sono ben quattro liste che caratterizzano una coalizione che è di centro-sinistra e questo è un aspetto importante per chi ha una cultura riformista come la mia e che radici cattoliche, diciamo, che si riconoscono benissimo in questo progetto. Quindi io non vedo negativamente il fatto che per la prima volta dopo dieci anni ci siano dei parlamentari che verranno eletti direttamente dal popolo come avviene con i sindaci. Questo è un elemento forte di novità di questa legge elettorale che gli elettori possono utilizzare per scegliersi democraticamente i loro rappresentanti. Ecco, questo è un aspetto importante anche quello dei sindaci, ci arriviamo tra breve. Rimanendo al sistema uninominale che è quella appunto la novità di questa legge elettorale, l'altro elemento di chiarezza è quello che si sa che per esempio nel territorio, in questo territorio dove ci sono sei comuni, saranno cinque i candidati che si sfidano e quindi saranno tutti facilmente identificabili. Sì, si potranno guardare negli occhi tutti gli elettori di questi collegi. Il mio collegio è quello di Biceglie, Molfetta, Giovinazzo, Ruvo, Corato e Terlizzi. Sono sei comuni importanti di quest'area che è a cavallo tra la città metropolitana e la provincia di Barletta-Andreatrani, per cui è un'area che oggi necessita di una identificazione sul piano politico-istituzionale. Quindi questo collegio, una scelta del legislatore, è un momento anche importante perché attraverso queste scelte nascono processi anche sociali, culturali e economici che vanno a recuperare quelle che sono poi le radici storiche delle varie comunità. Abbiamo molti elementi in comune in questo collegio tra Biceglie e Molfetta, ci sono tante cose in comune, abbiamo progetti comuni, abbiamo il GAL in comune. Ci sono veramente tanti elementi caratterizzanti che possono diventare determinanti per scrivere una pagina importante di questo territorio. Dobbiamo dire la verità, questo territorio è stato un po' trascurato perché tra Bari e Bat risentivano... Esattamente, questo era il territorio cuscinetto. E tra l'altro, l'ulteriore complicazione della sua sfida, perché se non sono sfide difficili, Francesco Spina non ci prova neanche. Lei ha fatto gli ultimi dieci anni della sua attività guardando comunque il territorio della Bat. Come presidente addirittura. Visto che tra l'altro il comune di Biceglie era inserito a pieno titolo nella Bat, anzi proprio la presenza di Francesco Spina ha dato a Biceglie un ruolo di primo piano all'interno della sesta provincia pugliese, tanto da arrivare ad essere il presidente della provincia. Quindi il suo ruolo è stato sempre improntato a guardare più nel territorio della Bat. Ora si trova invece a dover essere candidato nel territorio di Biceglie, Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo e Corato. Una complicazione, ma che appunto potrà servire a ricucire finalmente questo territorio ampio che un tempo si chiamava Norbarese. Sì, mi è naturale devo dire questo impegno anche perché io sono stato presidente del patto territoriale del Nordbarese quindi con la città di Corato per esempio abbiamo avuto molti momenti di collaborazione con i sindaci, con le loro comunità e con Molfetta sono stato colui che ha sostenuto la necessità di allargare il Gal Ponte Lama che è tra Trani e Biceglie, di cui sono presidente, anche a Molfetta. Quindi ho sempre guardato attentamente a questo ruolo che la mia città, Biceglie, ha avuto di cerniera con l'area metropolitana. Non dimentichiamo dei referendum che si sono fatti in qualche circostanza che hanno dimostrato come a Biceglie ci siano anche radici importanti che legano questa città all'area metropolitana. Quindi c'è stato sempre questo grande equilibrio, non dimentichiamo la mia deliberazione di voler estendere la zona asi della città metropolitana proprio a Biceglie e la volontà di creare una sinergia tra le aree industriali per poter creare sviluppo nella città. Una grande battaglia che ho portato avanti negli scorsi anni che poi mi ha portato comunque ad ottenere un finanziamento importante per la strutturazione dei servizi delicati per la zona industriale della città di Biceglie. L'acqua, la luce, il gas, la fogna. Quindi siamo pronti a diventare un tutt'uno con l'area industriale di Molfetta laddove le condizioni politiche, e forse questa è l'occasione giusta per portare avanti questi progetti, ci consentano poi di creare veramente una vera e propria osmosi di carattere economico e culturale e sociale come già nei fatti. Quindi un impegno che mi è facile anche perché alla fine sto con molta serenità accettando questo confronto con gli elettori nella mia città, Biceglie, portando davanti ai cittadini quello che è stato un giudizio unanime su un'operatività che al di là delle differenziazioni politiche non può che essere valutato per la sua oggettività. Le opere di Biceglie sono sotto gli occhi di tutti. Ecco, secondo me quel metodo che io ho adottato nella città di Biceglie può essere un metodo di azione catalizzatore di finanziamenti importanti e di opere e risultati importanti. Ci vuole qualcuno che sape difendere il territorio. Probabilmente diciamo in questo momento gli elettori di questo collegio delle città di Bolfetta, Giovinazzo, Ruvo, Corato, Terlizzi, oltre che la città di Biceglie hanno l'opportunità di trovare una persona che rimarrà sul territorio, che non andrà a Roma a scaldare del poltrore, ma starà sul territorio a difendere i cittadini, a difenderli mettendo da parte anche la politica qualche volta, perché lo sanno tutti che io ho sempre anteposto il valore dell'interesse dei cittadini rispetto alle logiche politiche. Qualcuno qualche volta ha criticato questo aspetto, ma nessuno potrà dire mai che ho disdegnato qualche volta di tutelare gli interessi delle comunità. Questo l'ho fatto da Presidente della provincia quando ho difeso situazioni ambientali nelle varie città di questo territorio, nel portare avanti opere importanti come la Traniandria, la Biceglieandria, la Corato, Biceglie, non dimentichiamo, un'arteria importante. Abbiamo difeso questi risultati che erano intercomunali, ma era il metodo con cui ho lavorato quasi 12 anni nella città di Biceglie. I cittadini al primo posto. Ci arriviamo sicuramente a questo aspetto, però prima magari è anche il caso di capire qual è lo scenario nazionale nel quale si va ad operare. Il governo uscente aveva la guida del Partito Democratico. Partito Democratico che oggi si ritrova a dover competere con centrodestra, soprattutto centrodestra e grillini. Qual è il quadro di riferimento secondo lei? Qual è l'immagine che si fa guardando alla situazione nazionale? Chi governa oggi paga uno scotto. In questo momento ci rendiamo conto che lo scotto che ha governato in questi anni naturalmente ha avuto la necessità di dover risolvere problemi importanti della comunità italiana. Problemi che forse mai erano stati così gravi. La crisi economica degli ultimi dieci anni probabilmente ha avuto qualcosa di simile solo quando ci sono scoppiate le guerre mondiali, per intenderci davvero qualcosa di forte. Però non dobbiamo dimenticare poi che non più tardi di quattro anni fa c'era qualcuno che voleva buttare le monetine contro Berlusconi. Non dimentichiamo la crisi, tutta la crisi economica del periodo che portò alle dimissioni di Silvio Berlusconi, il differenziale, lo spread famoso che stava facendo fallire l'Italia. Oggi quelle cose sembrano dimenticate come sembrano dimenticarsi qualche volta e i cittadini sono distratti, quali sono le comunità ben governate e i danni che fanno le persone incompetenti che per carità in modo pulito si candidano qualche volta ma non sono in grado di prendere una penna in mano, di scrivere una deliberazione o di suggerire ai dirigenti delle deliberazioni. Mi riferisco ai Cinque Stelle che hanno avuto negli ultimi anni degli esempi di cattiva amministrazione, un po' dunque si sono andati. E' facile quindi parlare, dire cambieremo il mondo, cambieremo l'Italia, quando ti trovi di fronte ai problemi della gente, se non hai competenza, equilibrio, buonsenso e onestà, ma l'onestà che si dimostra con i fatti, di qui anche lo slogan che ho voluto utilizzare in questa campagna elettorale, perché a parole tutti siamo per il cambiamento e il rinnovamento, l'Italia ha una storia di cose che non funzionano, a parole, ma nei fatti è il vero cambiamento, lo slogan che sto utilizzando, perché con i fatti, con la dimostrazione che si può lavorare 11 anni senza avere processi contro, senza avere nessun tipo di problema e quindi dimostrando una linearità, una nitidezza di azione amministrativa che ha subito tanti accertamenti, tante azioni anche di denunce che si sono sempre verificate vane, perché è giusto che le opposizioni facciano le loro denunze, ma è anche vero, giusto risaltare che all'esito di quelle denunce risulta limpida e nitida l'azione di un'amministrazione comunale, non per un giorno, non per tre giorni, ma per circa 12 anni e questo lì, come alla provincia e in tutti gli altri enti dove io ho esercitato un'azione amministrativa, quindi l'onestà coniugata alla competenza, al saper fare, al saper concretizzare le aspettative dei cittadini in opere e nei servizi, oggi è l'unica ricetta per portare poi lavoro, occupazione e servono ad arginare quelle che sono poi le questioni e le critiche di carattere sociale, perché poi il disagio sociale è forte, la gente cerca risposte, cerca riferimenti e nella mia città, ma devo dirti anche in questo collegio, io sto cominciando a conoscere in modo anche più stretto e diretto gli abitanti, i cittadini di questo collegio elettorale di Biceglia, Molfetta, Giovinazzo, Ruvo, Corato e Terlizzi, beh questa diventerà un'area che troverà sicuramente dei riferimenti istituzionali importanti, io l'impegno che ho preso e l'ho detto recentemente è quello di portare avanti con onestà quello che è stato il mio metodo di lavoro, presenza sul territorio, non andare a scaldare le poltrone, se io ci sono sono scomodo alla politica, ma molto utile e comodo ai cittadini, questo lo sanno, i miei avversari mi conoscono e sanno che vado dritto come un treno quando si tratta di raggiungere certi obiettivi e certi risultati, ma sanno anche gli stessi miei avversari che il mio numero di cellulare è lo stesso da 30 anni, che io rispondo di giorno alla notte a tutti i cittadini, a tutte le istanze, quando si possono fare le cose si fanno, sempre in modo legale, sempre in modo legittimo e sempre nel rispetto di quelli che sono i caloni della buona amministrazione, quando non si possono fare ho il coraggio di guardare negli occhi i cittadini e di dire che non si possono fare, qualcuno è contento, qualcuno è scontento, ma nessuno può criticare mai il modo di operare, di aiutare tutti a 360 gradi e questo forse è stato l'elemento più caratterizzante delle mie azioni che mi ha portato all'elezione ben tre volte, anche con 12 liste civiche come è venuto alle elezioni comunali del 2013 nella città di Bicelle. I bicellesi se hanno scelto tre volte non sono stati sproveduti, hanno capito che attraverso Francesco Spira potevano tutelare gli interessi del territorio e spero che lo capiscano e lo comprendano in modo diciamo sereno con la massima, con questa mia generosità sempre di azione che non lesina energie ed impegni che lo possano comprendere anche gli abitanti di tutto questo bellissimo e magnifico territorio che è nevralgico, è fondamentale per lo sviluppo economico dell'intera Puglia e che qualche volta a causa delle divisioni, a causa anche qualche volta della marginalità, Biceglie rispetto alla BAT e il comune di Molfetta, di Giovinazzo, Ruvo, Corato e Terlizzi rispetto alla città metropolitana, hanno trovato difficoltà a vedere risposte concrete. Siano certi tutti i cittadini, per me non ci saranno differenze, lotterò se lo vorranno naturalmente perché il mio giudizio voglio dire di sottopormi oggi con serenità a quella che è la volontà del popolo, degli elettori, penso che sia la cosa più bella, senza paracadute, con serenità. Poi ci arriviamo anche a questo, a proposito dell'onestà e del principio di legalità, diciamo a beneficio dei comuni di Molfetta, soprattutto Molfetta, Giovinazzo, Ruvo, Terlizzi e Corato che non l'hanno avuto come amministratore diretto, ma ricordiamo che Francesco Spina è stato anche capace di dire dei no importanti, lì dove non si potevano fare determinate cose e gli sono costate anche un'auto incendiata, proiettili, un'operazione ad un orecchio per un'aggressione fisica ricevuta perché l'onestà non è un principio che si deve soltanto sbandierare nelle piazze come fanno Taluni, ma è anche un principio che deve improntare l'azione concreta e che va poi coniugato con le realtà. Quando si governa si rischia, io sono fermo nei principi e qualche volta hanno anche individuato i responsabili di questi gesti, devo dire che avevano torto loro sicuramente perché quando si chiedono delle cose con violenza e le cose non si possono ottenere, soprattutto subito, alla fine il cittadino che si pone in queste condizioni chiaramente sbaglia, il rispetto delle istituzioni, il rispetto della legge sono fondamentali, bisogna portare avanti con coraggio. Io non ho mai piegato la testa verso nessuno, questo l'ho fatto sia in politica che nell'ambito di quelle che sono le mie azioni amministrative, ho sempre tenuto la testa alta e ho guardato negli occhi tutti i miei interlocutori, anche quelli che potevano far timore per l'istituzione che rappresentavano, qualche volta che volevano minacciare esercitando azioni, qualche volta con arroganza e prepotenza. Non ho mai basato la testa perché rappresentavo l'istituzione e per me l'istituzione è sacra, ho questa cultura forte delle istituzioni, tanto è vero che mi piace interloquire soprattutto con chi ha avuto l'esperienza anche di sindaco, di amministratore, che è stato sul territorio, che ha fatto la gavetta come me, che è cresciuto lentamente con sacrificio, con lavoro, piuttosto che magari con chi viene raccomandato dalla politica. Il mio rapporto con Michele Emiliano nasce proprio da questo, dalla consapevolezza per esempio che un Presidente della Regione che ha fatto dieci anni sindaco è una persona oltre al suo ruolo storico e professionale di magistrato, ma è la persona in grado di poter avere una leadership di governo dei territori, se l'è guadagnata sul campo e a me piace emulare queste personalità, diciamo così, forti e radicate sul territorio. Diciamo che l'esperienza prima di Matteo Renzi, dieci anni sindaco, prima Presidente della provincia di Firenze, poi dieci anni sindaco a Firenze, poi si è presentato all'attenzione nazionale per guidare il paese, come si guida una città. Poi in Puglia Michele Emiliano, addirittura la sua campagna elettorale è stato il sindaco di Puglia, quindi tutti i comuni che diventavano, venivano rappresentati dal sindaco dei sindaci. Ora anche Francesco Spina si mette proprio in questo solco, cercare di portare il modo di amministrare una città che significa appunto contatto quotidiano, il front office con i cittadini, il front office della democrazia si dice spesso, i sindaci che rappresentano ciascuno dei cittadini della propria città, ora portarlo a questo territorio più ampio, un territorio che ha bisogno di ritrovare la coesione. Sono persone che, hai citato Renzi anche, oggi viene criticato in molte circostanze, ma ha avuto il coraggio di portare avanti le sue idee, non ha fatto slogan propagandistici, non ha detto cambieremo l'Italia ed è stato fermo. Ha portato l'attenzione degli italiani, un referendum sbagliato, non sbagliato che fosse, ma dove c'erano delle riforme che andavano ad eliminare il CNEL, a semplificare il sistema parlamentare eliminando il Senato, a risparmiare comunque. È stato bocciato e questo gli è costato anche in termini di popolarità, però bisogna apprezzare lo sforzo che ha fatto di portare avanti, forse con un po' di, ha sbagliato negli atteggiamenti, qualche volta la sicurezza con cui ha portato ha creato anche attorno a sé in qualche circostanza, qualche reazione contraria. Ma ha avuto il coraggio che caratterizza i sindaci, gli amministratori, coloro che sono abituati ad affrontare i problemi, non a girarli. Oggi se facessimo dei comizi demagogici, qualcuno bravo a farli, io mi diverto e mi diletto qualche volta nei comizi, ma certamente sarebbe facile dire che le cose non vanno, che vanno migliorate. In una città è come entrare in una casa, vai a vedere il pelo in un angolo e vai a criticare quella persona che sta gestendo la sua casa con grande attenzione. È facile criticare, è più difficile lavorare e operare. Lo stesso Michele Emiliano sta dimostrando di metterci la faccia, le battaglie ambientali, ma chi le fa in giro di questi tempi? Mettendosi qualche volta anche in posizione distonica rispetto al partito, alle istituzioni anche governative nazionali, le battaglie del livre, le battaglie sull'ambiente che sta portando avanti, le battaglie sociali per creare solidarietà e lavoro e occupazione attraverso anche un sostegno al reddito. Sono battaglie importanti sulle quali onestamente non ci possono essere differenze culturali e politiche. Sono battaglie da sostenere, poi è evidente che qualcuno le può condividere nel merito, va bene, ma non si può criticare il metodo di azione di queste persone oneste intellettualmente che combattono per affermare le loro idee, qualche volta sbagliate, qualche volta giuste. Ma ricordiamoci che la Puglia si è caratterizzata per un impegno importante di tutela del territorio e penso che questo caratterizzi e dia sicurezza ai pugliesi. Vedere che c'è un presidente che non svende mai la sua terra è la stessa cosa che dobbiamo emulare noi che ci proponiamo oggi in questi collegi maggioritari, dovremmo il coraggio di poter dire qualche volta anche al nostro presidente Emiliano, ma da parlamentari eletti in questo territorio, caro Michele, caro presidente, questa cosa la dobbiamo fare per forza per tutelare questo territorio e noi combatteremo rispettando sempre i nostri amici, le istituzioni, ma in primo luogo non svendendo mai i cittadini del territorio, perché a loro dobbiamo questo mandato. Se io sono qui oggi, se ho l'onore di potermi proporre questa candidatura, lo devo per delle scelte politiche fatte dal partito, dal partito democratico, dagli amici che hanno sostenuto la mia candidatura, l'onorevole Grassi è stato uno di quelli per esempio che si è speso su questa partita, altri amici lo hanno fatto, Michele Emiliano l'ha sostenuta in modo forte e fermo, gli amici del territorio bicegliese che hanno firmato documenti a sostegno della mia candidatura, i consiglieri, gli assessori, tutti coloro che hanno chiesto questa candidatura, sono stati importanti, ma se lo devo, lo devo sempre a una volontà che si recepisce sul territorio di sostegno alla mia azione, lo devo ai cittadini e allora a loro io rivolgo il pensiero nel momento in cui mi candido, mi sottopongo al loro giudizio e con serenità attendo il risponso, se vorranno, troveranno un amico e un interlocutore del territorio che saprà rappresentarli a un livello nazionale portando risultati in termini di lavoro, di occupazione, di risorse economiche, di opere, ma soprattutto non montandosi mai la testa. Io sono lo stesso Francesco Spina che giocava a calcio con i suoi amici nella città di Piceglie, che sapeva stare con loro, che sta con loro oggi nella stessa maniera e nelle stesse condizioni di 30 anni fa. Ecco, a questo proposito è importante dire ai cittadini di questo territorio che bisogna andare a votare, bisogna andare a votare perché uno dei problemi che si riscontra è quello della bassa, uno dei pericoli che si riscontra è quello della possibile bassa affluenza alle urne. Una affluenza che invece si sconfigge come? Una bassa affluenza che si sconfigge in che modalità? Portando proprio le istanze del territorio lì dove conta? Sì, dobbiamo far capire ai cittadini che questo voto non è inutile, ci sono le persone da eleggere, non sono nominati dall'alto, le persone le trovano scritte e le devono scegliere loro. Allora in questo caso c'è il rapporto diretto, ripeto, è la scommessa del maggioritario, una quota limitata, è marginale rispetto ai due terzi che vengono cooptati attraverso le liste proporzionali, ma quella parte maggioritaria, quella parte di sistema elettorale che io vado oggi a rappresentare perché mi candido proprio nel sistema maggioritario è la parte che scelgono i cittadini. Non privatevi del vostro diritto di scegliere chi rappresenta il territorio. Questo è il messaggio da dare a tutti i cittadini, devono scegliersi il loro rappresentante. Anche perché in questo modo c'è un collegamento diretto che è quello che aveva fatto saltare il sistema democratico italiano. E per la prima volta il legislatore è la parte positiva di questa legge, ricollega gli eletti come era una volta, i parlamentari avevano le loro segreterie, stavano tra la gente, stavano nel popolo, ricevevano ogni settimana le persone, li ascoltavano, erano un sostegno anche ai sindaci del territorio perché i sindaci sono rimasti soli con i parlamentari cooptati negli anni scorsi, nominati dall'alto. I sindaci erano soli, erano i terminali unici nelle istanze e qualche volta della disperazione dei cittadini. Oggi i parlamentari eletti col sistema maggioritario sono collegati al popolo e diventano loro espressione. Cioè un parlamentare non se ne può andare a Roma perché la volta successiva non lo elegge nessuno, non lo ascolta nessuno, non sarà il suo segretario a poterlo tutelare. E io avrò sempre questa vocazione perché devo dire tutto sempre grazie al popolo e a loro vorrò sempre dire grazie. Quando non lo vorranno più, io devo dire tornerò a fare altro. L'avvocato è stato sempre una professione che mi è piaciuta, la passione politica mi ha preso oramai, è un po' patologica qualche volta, ti prende 18 ore al giorno e non ti freni più, ma lo fai per gli altri, lo fai per i cittadini, quella passione diventa un servizio importante per la cittadinanza. E quindi quando attraverso questi percorsi tu realizzi anche i tuoi obiettivi, penso che fai una cosa virtuosa e positiva per le comunità. E la politica come servizio alla fine. Io la fortuna, devo dire che questo è importante, ti fa stare coi piedi per terra, si dice che la politica arricchisce. Io non mi sono arricchito, questo lo sanno tutti quelli che hanno dedicato tante attenzioni qualche volta per vedere se io avessi qualche scheletruccio nell'armadio. io posso stare tranquillamente a convivere, a condividere ciò che faccio nella quotidianità anche in tempo reale con la comunità, lo sanno tutti, non ho nulla da nascondere. Mi conoscono per quelli che sono i miei pregi, per quelli che saranno i tanti difetti, ma sono questo che appaio, esattamente questo. Per cui mi è facile continuare a fare politica perché io non devo nascondermi, mascherarmi, nascondere ricchezze, nascondere conti correnti. Sono esattamente la persona che si vede in giro. E quindi la verità, la naturalità con cui oggi posso espormi alla comunità è la caratteristica principale che mi rende anche popolare nell'ambito delle comunità che rappresento. E questo penso sia il segreto oggi che mi permette di essere sereno e di affrontare sfide anche difficili, complicate, importanti, grandi, con molta molta umiltà e serenità. Questa sua esperienza da sindaco, abbiamo detto dal 1450 in poi, è il sindaco più longevo della città di Bisceglie. La potrà anche aiutare ad essere il partner di ciascuno dei sindaci del territorio, delle sei città. Potrà essere davvero l'aiuto per non farli sentire soli sul territorio. Ma è un aiuto importante per i sindaci, per le istituzioni del territorio. Avere un parlamentare che ha fatto la gavetta di consigliere comunale, di sindaco, presidente della provincia, cioè non è nato per caso, non è stato preso dalla strada e messo in una lista che in un certo momento attirava o in una lista cooptata. C'è uno che si è guadagnato il consenso lottando quotidianamente, rischiando, sottoponendosi a interventi chirurgici per aggressioni anche durante i periodi natalizi. Qualche volta non fai le vacanze di Natale, non le fai con i tuoi figli e con la famiglia e ti trovi a farle in ospedale per un intervento chirurgico che certamente non te lo sei andato a cercare perché uno mentre lavora non si aspetta le aggressioni o altro. Tutte queste cose che possono accadere a chi amministra caratterizzano il modo di essere di un uomo, ti formano. Oggi le comunità, i cittadini, gli interlocutori istituzionali come i sindaci di questo territorio sanno che trovano un loro collega, non trovano una persona avulsa che non capisce, che non comprende le istanze del territorio, trovano una persona che in un secondo individua il problema e ti dà una soluzione. Poi la soluzione qualche volta si può realizzare in un minuto, qualche volta in un anno di lavoro, però dobbiamo individuare subito la terapia rispetto ai problemi che affliggono le comunità, che sono tanti. Cioè un sindaco, io nella mia attività ho fatto e ho riportato queste azioni, avrò adottato migliaia di ordinanze, delibere, ho fatto ore e ore di consiglio comunale, 1.400 delibere di consiglio comunale. Cioè aver fatto tanto lavoro, fortunatamente senza errori, lo posso dire oggi dopo tanti ricorsi, tante denunce, non è mai accaduto nulla nella città di Biceglie, e lo possiamo dire ad alta voce, beh significa voler applicare quell'azione competente, onesta e passionale con le comunità, che vuole lavorare, vivere con le comunità in un territorio più esteso e più largo. Mi metterò a servizio delle comunità, lavorerò per loro e lavorerò continuando ad applicare il mio metodo perché io, quelle 18 ore al giorno, che non sono solo le attività amministrative, ma anche quelle relazionali, le interlocuzioni, le risposte al telefono, a coloro che ti cercano, cioè io non ho delle parentesi, ma è sparito una settimana e si è fatta una vacanza, io a Biceglie 11 anni e mezzo, vacanze, non ne ho fatte, estate, inverno, mi conoscono tutti, non mi sono mai allontanato dalla città, sempre presente e, ripeto, scomodo per gli avversari che volevano magari fare qualche ciambottino quando mancavo io, ma molto comodo e utile per i cittadini che sapevano sempre dove andare e dove trovare qualcuno. Mi cercano ancora, devo dire, Vittorio Fata sta egregiamente continuando quell'opera iniziata da me tutti questi anni, è stato il mio sindaco e quindi con facilità sta portando avanti questi progetti, ma la città di Biceglie sta andando avanti, ma è giusto che io possa dedicare questo impegno e questo sforzo a una comunità più larga e lavorare per tutti i cittadini di queste città meravigliose, bellissime, che hanno una grande storia, una grande tradizione, che messe insieme possono diventare veramente un grande volano di sviluppo per la Puglia. Questa zona se fa massa critica e diventa un tutturo, un unicum sul piano culturale, sociale ed economico, questa zona può diventare un volano strategico e diventa la vera grande cerniera economica, il volano economico tra la BAT, a partire in Biceglie, la città metropolitana a cui appartengono gli altri comuni, ma è giusto dare una loro identità e fare diventare forti perché uniti si può. Ecco, noi con Francesco Spina ci vedremo ovviamente anche nelle prossime settimane con degli appuntamenti già cadenzati e affronteremo diversi argomenti anche specifici, ma è inevitabile partire dalla città che amministra, Biceglie. Biceglie che in 12 anni Francesco Spina è riuscito a portare in città investimenti nazionali e comunitari per quasi 500 milioni di euro, una cifra che fa rabbrividire soltanto a pensarci. In questa campagna elettorale io porterò di esempio queste opere, sono opere che non hanno una caratteristica particolare che le legano alla città di Biceglie. La scuola, la strada, il ponte, il campo sportivo, sono tutte opere che potrebbero realizzarsi con un'attenzione importante, con qualcuno che segua i percorsi di finanziamento, di progettualità, di segua con attenzione, sostenendo l'azione dei sindaci. Queste opere si possono realizzare in tutte le città. La fortuna di Biceglie è stata che per ben tre volte ha creduto nel sottoscritto, dando la possibilità di dare continuità amministrativa. Non è soltanto un merito mio rispetto agli altri colleghi sindaci, io capisco bene i problemi che ci sono, difficili da realizzare queste opere. Io nel primo mandato ho avuto grosse difficoltà, ma il fatto che mi hanno dato fiducia per ben tre volte, devo dire ripagata con un impegno e con dei risultati progressivi, ha consentito di portare a termine quei progetti e quei programmi che io mi ero prefisso. Basta leggere il mio programma del 2013 a Biceglie, il mio giuramento solenne alla città, quando fui eletto contro tutto e tutti, mi volevano tutti male in quel periodo, la parte politica, non i cittadini. I cittadini mi hanno dimostrato affetto, mi hanno cullato, protetto e mi hanno portato a un grande risultato rispetto a un'operazione che non staremo qui a dire fu volgare e brutta. Ma nel 2013, in quell'anno si registra proprio l'aspetto più importante, il cittadino sposa i programmi, 12 liste civiche, un sindaco che si propone, un programma. Quel programma io l'ho realizzato. Sto dicendo nella mia città queste sono le cose che avevo promesso, le promesse degli altri. Si vede cosa succede dove amministrano tutti coloro che dicono che cambieranno il mondo, l'immondizia di Roma oramai è eloquente, basta vederla, basta vedere tutte le altre città. Biceglie anche nei problemi come quelli igienici sta lottando disperatamente perché sappiamo che sono problemi non ci dobbiamo nascondere dietro un dito che sono per tutto il mondo, basta vedere cosa succede nei nostri mari con la plastica. L'inciviltà, l'incuria, l'insensibilità per l'ambiente porta a questi risultati. Ma noi ci sforziamo di portare la differenziata al 70%, Biceglie ormai ha le soli del 70% con il 66%, l'ho presa che aveva il 5%, naturalmente le cose nel tempo devono migliorare, i controlli devono diventare più forti, ci sono azioni importanti da fare per quello che riguarda oggi la cultura del cittadino che deve capire che sporcando la strada fa un danno alla salute di suo figlio per un domani, non ci sono più gli inceneritori che fanno male e le discariche creano problemi come è successo nella città di Trani, quindi dobbiamo essere attenti a sviluppare il concetto della differenziata che è l'unico che può portare poi ai rifiuti zero che oggi sembrano un'utopia ma dovranno diventare un obiettivo perseguibile e raggiungibile, ma le opere realizzate e promesse nel 2013 le hanno i cittadini bicegliesi davanti agli occhi. Vi Aldo Mora aveva promesso la pedonalizzazione nella strada principale della città, la riqualificazione sembrava una cosa irraggiungibile, tutti erano contro, oggi quella è l'opera più amata dai bicegliesi, la diga al porto della città di Biceglie, i pescatori non hanno più danni nella città di Biceglie, sono piccoli esempi che possono essere applicati anche nelle altre città di Molfetta, di Giovinazzo, Ruvo, Corato e Terlizzi, soltanto se si dà fiducia a chi governa e c'è un rappresentante istituzionale che diventa il collante importante con le istituzioni regionali e nazionali per creare le sinergie che sono le cosiddette filiere istituzionali, i comuni, le province fino a quando esisteranno le città metropolitane, la regione e il Parlamento col governo nazionale, sono queste le filiere che portano i benefici sul territorio, se noi accettiamo la disgregazione di quelli che dicono distruggiamo tutto per fare cosa? Per andare dove? Per andare in guerra? Per avere morte? Per avere odio? Per avere disagi sociali? Ma siamo impazziti, qua bisogna costruire, non distruggere, il voto ha un senso propositivo, non distruttivo, perché anche gente colta qualche volta viene presa da questa voglia di dire distruggiamo e non costruiamo e questo è il male delle nostre comunità oggi, costruire scegliendo le persone giuste, se Spina va bene votatelo, se Spina non va bene va bene lo stesso, votate un'altra persona, ma date un senso propositivo al voto, non un senso distruttivo, perché altrimenti i nostri figli pagheranno le conseguenze. Noi abbiamo avuto una vita, la nostra generazione ha avuto una vita peggiore probabilmente di quella che hanno avuto gli altri, dal punto di vista economico forse in qualche momento abbiamo avuto qualche beneficio, ma poi alla fine si è visto una disgregazione sociale, abbiamo vissuto i problemi, rispetto ai nostri genitori probabilmente abbiamo vissuto anche un arretramento, soprattutto di carattere relazionale, culturale e questo è un aspetto negativo, noi dobbiamo fare meglio, dobbiamo restituire, nonostante le difficoltà di oggi con tutti questi sistemi ormai di social network che allontanano dalla relazione affettiva, dalla comunicazione vera, dalla stretta di mano, dall'abbraccio, dal contatto persona con persona, questi social network creano una parvenza di comunità, non ha senso, sono una sommatoria di individualità che cercano qualche volta relazioni sui social network, creano danni con le fake news e tutto il resto, quello che accade in questi giorni, invece dobbiamo trasporre dalla realtà virtuale, dalla politica virtuale, dalla politica dove si scelgono i rappresentanti su internet, attraverso sistemi che sono chiaramente dopati e sono evidenti sotto tutti, il contatto diretto col popolo, chi sta sul territorio, chi viene eletto, chi è giusto che rappresenti le comunità perché sa fare e sa operare, questo è il giudizio che gli elettori devono dare a questa campagna elettorale e il piglio con cui mi presenterò chiedendo ai cittadini con umiltà, ma portando un background di capacità amministrativa innanzi a loro, chiederò questo voto, mi è stata data questa possibilità dalla coalizione e dal Partito Democratico che rappresento e con questa possibilità cercherò di portare avanti le istanze di questo territorio. Ritornando ai lavori eseguiti nella città di Biceglie grazie al suo mandato bisogna ricordare anche un altro aspetto sicuramente interessante è che tutti questi finanziamenti sono aggiuntivi alle risorse di Biceglie, cioè non sono stati fatti lasciando a chi verrà dopo debiti da pagare, cioè non è stato fatto con i mutui ma è stato fatto tutto con fondi aggiuntivi. Le capacità, io sto apprezzando anche, sto vedendo come sta amministrando in questo periodo il sindaco di Molfetta per esempio con cui ho interloquito recentemente per via del Gall, come faccio con il sindaco Medio Bottaro di Trani, sto apprezzando questa capacità degli amministratori locali di poter stringere la cinghia, di guardare i conti, quell'azione amministrativa silenziosa che non si nota e non si vede che io per tanti anni ho avuto nella città di Biceglie. Nonostante tutti i tentativi di delegittimare qualche volta in modo violento e scorretto le azioni dei sindaci come è capitato a me, devo dire che in questa circostanza Bicegliese i conti sono sempre tornati perché le opere si sono fatte non con mutui ma si sono fatte con finanziamenti. Oggi i sindaci hanno bilanci risicati, rispetto a dieci anni fa i bilanci comunali sono molto più in difficoltà, sono asciutti, sono ingessati. Poter dire voglio realizzare una torre per fare una grande azione, voglio fare un grande ponte, oggi noi possiamo lanciare degli slogan, ma tra il dire e il fare c'è qualche cosa che è complicatissima da portare l'attenzione dei cittadini. Trovare il finanziamento perché il bilancio comunale non c'è. Trasformare questo finanziamento con convenzioni, disciplinare e tutto in un progetto, studio di fattibilità, progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, le autorizzazioni di tutte le autorità del mondo, quelle idriche, idrogeologiche, quelle della sovrintendenza, genio civile. Dopo tutte queste autorizzazioni, con tutti questi progetti bisogna appaltare queste risorse. Gli appalti sono pericolosi. Chi ha appaltato come me centinaia di milioni di euro nelle comunità, provincia, comune, e lo fa con un'attenzione particolare alle forme e al rispetto della legge. Non è semplice perché poi ci sono i ricorsi al TAR, le denunce alla procura, ma in tutti questi anni aver trasformato questo poi in opere concrete che i cittadini hanno visto qualche volta, il taglio del nastro e la targa che ho voluto mettere. Bicelli è vero che è piena di targhe, ma sono targhe che indicano quello che per me è l'unica gratificazione possibile, aver gestito un fiume di risorse economiche, averle trasformate, trovandole in Europa, in regione, in uno Stato, in opere concrete che i cittadini usufruiscono. Oggi i cittadini possono andare al mare, Bicelli, sui ciotoli che abbiamo ripristinato. Entrano a Palazzo Tuputi, che era un palazzo antico, e fanno cultura, associazioni, i giovani, progetti culturali. Passeggiare sul waterfront. Passeggiare sul waterfront, ma quei progetti che hanno trasformato le opere culturali, ricordo una che inaugurai con Guglielmo Minervini, proprio a Palazzo Tuputi, un laboratorio con i progetti portati dalla regione Puglia dell'epoca, bellissimo, emozionante. Oggi ci sono le associazioni culturali di Bicelli che frequentano quei laboratori. Quindi dobbiamo cercare di trasformare queste idee in progetti. Ma io ho detto in modo semplicistico quelli che sono i vari passaggi. Trasformare questo in un'opera, quella che è un'opportunità, in un'opera concreta è micidiale. Quindi i sindaci vanno aiutati, i poverini stanno al fronte, vanno sostenuti con azioni delle istituzioni, non buttandoli qualcosa addosso perché le cose non vanno, perché le cose sappiamo che sono tanti i problemi. Vogliamo nasconderci dietro un dito? L'Italia, il mondo, stiamo assistendo anche a livello internazionale a momenti pericolosi dove si rischia la guerra mondiale e noi osiamo qualche volta disfare, distruggere, perché chi semina l'odio, chi semina sempre l'attacco, raccoglie quello, ma un mondo fatto di odio, di attacco, dove non ci sia dialogo, dove non ci sia pace nelle comunità e nelle istituzioni, è un mondo destinato a fallire. Cioè noi dobbiamo dare questo messaggio forte oggi nella politica, poi l'esito della campagna elettorale sarà relativo, perché una volta che ci siamo sul territorio spina, ci sarà oggi, ci sarà domani, non sparisce, perché la politica è passione, è vita, ma dobbiamo portare all'attenzione dei cittadini i metodi di costruzione delle comunità, non di distruzione, altrimenti non ne usciamo più e siamo preoccupati perché i nostri figli pagheranno soprattutto questo scotto, ora si che noi ci arrangiamo un po' di anni, ma dopo questi problemi diventeranno irrisolvibili e soprattutto si trasformeranno non più in problemi, ma in patologie serie di carattere sociale. Temiamo veramente per la pace qualche volta e questo è il dato più importante, perché la pace, la democrazia e la libertà si minano proprio nel momento in cui destrutturiamo le istituzioni, nel momento in cui distruggiamo ciò che è stato fatto dai nostri padri costituenti. La nostra costituzione italiana nei valori è inattaccabile, ma deve essere portata e applicata in tutti i momenti della vita istituzionale. Quindi mi auguro veramente che sia una campagna elettorale, un bocca al lupo ai miei avversari. Ecco, proprio lì volevo arrivare una valutazione dei cinque avversari con cui andrà a contendersi l'unico seggio di questo collegio. Che idea si è fatta? Che cosa si aspetta da questa campagna elettorale? Che toni potrà avere? Per quanto mi riguarda toni costruttivi di confronto. Rispetto ai miei avversari, ho letto i loro nomi. Ci sono cinque persone di questo territorio. Ci confronteremo, spero, sui programmi. Io non userò, come ho fatto sempre nelle campagne elettorali, attacchi. Io parlerò solo di politica e di opere, progetti. Ho delle idee che svilupperemo nei prossimi giorni proprio in funzione di queste sinergie che ci sono, che nascono da progetti già in piedi. La lama di Santa Croce, per esempio, che lega Biceglie con Corato, che sbocca sul mare. Stiamo approfondendo anche il sistema dei dolmen del nostro territorio. Un sistema di progetti naturalistici, ambientalistici che però si prefiggono il sviluppo turistico. Quindi voglio dire, io spero che ci confronteremo sui programmi. E poi, come sempre, vinca quello che il popolo vuole che vinca. Perché là c'è la verità assoluta. A proposito di tutela dell'ambiente, un'opera a servizio di cinque comuni che fanno tutti capo a questo stesso collegio. L'avete già realizzata e addirittura inaugurata qualche giorno fa. Quella dell'acquedotto, in collaborazione con l'acquedotto pugliese, del famoso depuratore di Biceglie, sul quale vanno a confluire i comuni di Corato, di Ruvo, di Molfetta, oltre che di Biceglie. Ecco, questo significa che si può trovare un argomento che unisca questi comuni. Sono molti gli argomenti che ci uniscono ambientali. Quello della depurazione delle acque, ma è uno step di quel progetto. Adesso stiamo lavorando insieme alle altre città con la Regione Puglia, che sta sostenendo benissimo. Devo dire, il Presidente Emiliano ha intuito perfettamente che oggi il futuro è quello del riutilizzo delle acque reflue. Perché le nostre falde si stavano impoverendo. Non si riusciva più a trovare l'acqua, nemmeno per i nostri agricoltori. Con il rischio della salinizzazione. La salinizzazione. Nel momento in cui si parla di siccità a parole, combattiamo contro la siccità, risolveremo la siccità, acqua per tutti. Questo chiacchiere. Se non lavori e non hai progetti, idee, che cosa fai? Allora, ecco che abbiamo trasformato queste intuzioni in finanziamenti. La Regione ha posto l'attenzione delle amministrazioni locali questi finanziamenti importanti e noi abbiamo utilizzato questi finanziamenti. Parlo della città di Biceglie, ma sta avvenendo lo stesso per le città contigue. Tra l'altro abbiamo questa comune situazione proprio congiunturale dei comuni che fanno parte proprio di questo collegio a cui oggi mi candido per rappresentare a livello parlamentare. Devo dire che utilizzeremo anche i finanziamenti per fare dei piccoli acquedotti, per dare l'acqua agli agricoltori. Biceglie presto appalterà, si tratta proprio di qualche mese. Mi pare che stia partendo l'appalto per quello che riguarda la progettazione e poi quello della realizzazione dell'opera. Presto partiranno... Con 8 milioni e mezzo di finanziamenti. Con 8 milioni e mezzo che sono già in cassa nel comune di Biceglie per realizzare il riutilizzo delle acque reflue in funzione dell'agricoltura. Questo lo faranno Corato, lo faranno Ruvo, lo faranno Molfetta presto. Io sono convinto che con questi finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Puglia, noi porteremo anche l'acqua agli agricoltori. Io come Presidente del GAL sarò molto attento a far sì che questi progetti possano essere anche gestiti in modo proficuo e che i nostri agricoltori possano avere acqua a bassissimo costo, cioè gratis il consumo dell'acqua e pagando semplicemente i costi di manutenzione degli impianti. Questa è l'opera più bella che io mi ero ripromesso. Proprio gli amici di questo territorio si ricorderanno quando Francesco Spina fece una grande battaglia, allora ero un giovane avvocato consigliere comunale, fece una grande battaglia per non pagare i contributi di bonifica al Consorzio Terre da Puglia che aveva tutti i diritti di chiedere le cartelle laddove l'acqua arrivasse nelle città dove l'acqua potesse arrivare. Invece in quella circostanza riuscimmo a ottenere l'annullamento delle cartelle dimostrando il principio che se l'acqua non arriva agli agricoltori, se non ci sono servizi agli agricoltori non si pagano le bollette dei consorzi. Questo ha costretto il consorzio di bonifica ad andare sul territorio a migliorare i servizi e ha costretto tra virgolette i legali degli acquedotti del Consorzio di bonifica ad arrendersi rispetto alle azioni per cartelle che erano pazze, diciamo si chiamano così. Quindi oggi la vera battaglia è portare acqua per gli agricoltori, acqua che sia già calibrata per quelle culture. In questo modo con le culture più specifiche che potranno beneficiare di un'acqua che abbia già in sete le caratteristiche importanti diminuiranno i costi di produzione, miglioreranno la qualità chiaramente del prodotto e questo creerà anche un'economicità dell'azione portando ricchezza e maggiore lavoro. Ma oltre a questo facciamo un'azione anche per il nostro ambiente. Acque depurate, mare pulito, più turismo, l'area protetta per esempio tra Biceglie e Molfetta, Torre Calderina. Facciamo anche lì un progetto importante di espansione turistica ma con una vocazione di rispetto dell'ambiente che in poche altre parti della Puglia è verificata a livello di area protetta. Quindi stiamo cercando di portare lì proprio questo concetto. Un vero e proprio parco naturale. Un vero e proprio parco naturale che fu introdotto a livello legislativo con un'intuizione dall'onorevole Boccia. Tra l'altro gli faccio come mio concittadino l'imbocca al lupo per questa sua candidatura nel collegio di Lecce, diciamo, dove potrà portare la sua esperienza. Ma devo dire che qui mettendo insieme le varie energie migliori di questo Paese probabilmente riusciremo a risolvere anche parecchio in termini di azioni che servono ad arginare la crisi economica e sociale. Inevitabile il passaggio, proprio parlando di Torre Calderina, della fascia di depurazione, lì è contigua l'area industriale e l'area degli insediamenti produttivi. Insediamenti produttivi che da Biceglie ha tentato di portare immediatamente in contatto con l'area metropolitana di Bari, con il consorzio ASI di Bari in particolare. E proprio questo nucleo che è al centro del territorio tra Biceglie, Corato, Ruvo e Molfetta, che ne è davvero protagonista, perché proprio nel territorio di Molfetta ricade può essere considerato il vero volano dello sviluppo di questo territorio. Sì, dobbiamo sviluppare questa sinergia. Erano i fatti, abbiamo delle deliberazioni che sono state adottate dal Consiglio Comunale di Biceglie anche, quindi andremo in continuità con quelle deliberazioni recuperando queste idee, perché è giusto che una zona ASI ci sia. Devo dire che nella provincia di Barletta e Andrea Trani non siamo riusciti finora a creare un ASI che è importante per lo sviluppo, ogni provincia ce l'ha, se noi l'abbiamo contigo già sviluppata proprio in prossimità della città di Biceglie è giusto che si sviluppi subito questa idea e si concretizzi perché in questo modo creeremo veramente un polo industriale fortissimo e devo dire che l'intuizione di Molfetta è stata felice in questi anni, ho cercato sia pure in ritardo rispetto alla città di Molfetta di collegarmi con la zona ASI, ci siamo riusciti parzialmente attraverso, ripeto, l'infrastrutturazione perché un finanziamento di circa 5 milioni di euro ha portato nella zona industriale di Biceglie, ha portato oltre che luce, acqua, gas, tutte quelle infrastrutture importanti, compresa oggi la Bull, la banda ultralarga che è una città di Biceglie che si sta facendo dappertutto. Per intenderci, nella mia città negli ultimi 10 anni ho portato l'acqua, la fogna bianca che mancava, ho completato la fogna bianca, ho rifatto l'impianto elettrico con il sistema LED, abbiamo rifatto il depuratore, la depurazione delle acque, stiamo facendo la banda ultralarga per quello che riguarda anche i sistemi di carattere informatico che devono essere per le aziende e per le famiglie, le autostrade digitali che oggi sono fondamentali per lo sviluppo del territorio, si può dire che abbiamo rifatto quelle infrastrutturazioni che non si facevano da un secolo e quindi anche questo è servito a dare sicurezza, avere l'impianto elettrico sicuro, i pali della luce messi in sicurezza, l'impianto luce che ormai è a LED in quasi tutta la città, da più luminosità nel rispetto dell'ambiente, da chiaramente risparmio energetico, stiamo facendo un po' di cose e vogliamo portare queste idee, questi progetti in tutto il resto delle comunità sperando e auspicando di trovare diciamo sempre i cittadini e soprattutto quei sindaci volenterosi che stanno al fronte oggi, quei sindaci che sappiano mettersi in rete con le istituzioni prescindendo dai colori politici, perché poi il segreto è anche quello, fare i confronti e le battaglie elettorali nei momenti delle competizioni elettorali, ma il giorno dopo mettere da parte la competizione, rispettare il valore che ti ha dato il popolo rispetto a un giudizio che è inesorabile, il popolo ha sempre ragione, quando si perde si perde, come una partita di calcio, io che ho giocato a calcio, ho fatto molto sport nella mia vita, mi sono abituato che si può vincere, qualche volta si può perdere, ma quando si esce dal campo ci si stringe la mano, non si danno le gomitate nei spogliatoi, ci hanno insegnato il rispetto delle regole, il rispetto, devo dire che la tradizione sportiva di famiglia, mio padre è stato il calciatore che ho più presenza nel calcio vigegliese, mi ha insegnato un po' un attimino a rispettare sempre quelle regole del buon tonno, oltre che le regole di quelle che sono le normative che regolano le varie discipline, compresa quella sportiva e questo mi è servito nella vita a sapere anche accettare momenti duri, non sono mancati gli attacchi contro di me, ho avuto delle opposizioni nella mia città dei consiglieri molto spesso incattiviti che hanno fatto tutto ciò che era pensabile fare per poter far emergere dei difetti, mai guardando all'azione politica, ma sempre guardando agli aspetti più di attacchi personali, è il modo che io aburrisco della politica, per me non c'è mai attacco personale, la persona si rispetta, con l'avversario politico bisogna dialogare perché nell'avversario politico ci sono delle ragioni che tu devi individuare e devi poter sapere ascoltare, ma poi alla fine non può diventare odio personale, questa capacità di alcuni che io qualche volta dico può essere che è un mio limite non odiare, non avere questa cattiveria, però devo dire che poi nel medio-lungo termine sanno che io sono fermo, ma non sono violento nei metodi della politica, non ho mai usato registratori come ho usato contro di me, non ho mai mandato qualcuno con i registratori, non ho mai fatto denunze anonime, quindi ho uno stile assolutamente diverso da quella brutta politica che oggi è la pagina peggiore che dobbiamo mettere da parte, invitando gli elettori a sapere individuare le persone che sappiano fare della politica un uso in funzione dei cittadini e non contro qualcuno o a favore soltanto di se stessi. Siamo in chiusura di questo primo spazio, questo primo incontro con Francesco Spina, che una delle sue qualità che unanimemente gli viene riconosciuto è la capacità di ascolto della gente, sarà così anche in questa campagna elettorale in ciascuna delle sei città che compongono questo collegio? Io vorrò fare un incontro in ogni città, nelle piazze della città, cercherò di poter andare, tempo permettendo, questa è una campagna elettorale, io sono abituato nelle mie campagne elettorali a utilizzare i palchi e a fare i comizi, ma non nel vecchio senso, nel senso di portare i programmi all'attenzione della gente, il comizio è il momento in cui si vede il politico, si sente se è falso o vero, non si può mentire, uno che viene eletto tre volte, diciamo può mentire una volta, riesce a nascondersi una volta, se tre volte viene eletto in una città vuol dire che evidentemente viene colto un aspetto umano che è molto molto importante. Spero che tutti gli abitanti di questo territorio sappiano interpretare la passione e l'onestà intellettuale con cui io mi sottopongo a giudizio degli elettori, cercherò di andare in tutte le città, di stringere la mano ma anche di ascoltare tutte le persone perché devono poter avere contatto e contezza soprattutto di quello che è la persona Francesco Spira. Cercherò di farlo, i tempi sono risicati, speriamo che il bel tempo ci accompagni, si vota il 4 marzo, è il giorno del mio compleanno, quindi spero che... Un altro segno. Vabbè, diciamo che è una congiuntura così simpatica, però si vota il giorno del mio compleanno e spero che i cittadini di questo territorio sappiano comprendere che c'è innanzitutto la forza dell'uomo dietro all'azione politica e della sua coalizione e delle istituzioni che ha rappresentato e che vorrà rappresentare. Quindi in questo modo cercherò di contattare un po' tutti, di essere riferimento per tutte le comunità perché è giusto che si possa guardare negli occhi ogni comunità nei momenti centrali. La piazza è il momento del confronto, è il momento dell'ascolto e ascolterò naturalmente, oltre che le esigenze dei partiti, del Partito Democratico, di quelle che sono le istanze del territorio, cercherò di ascoltare anche i sindaci che sono fondamentali in questo momento, anche se le istituzioni della campagna elettorale sono sempre, diciamo, un po' qualche volta devono essere super parte, scomprendiamo la loro situazione, ma cercherò di ascoltare quelle che sono le istanze delle comunità e soprattutto, siccome i programmi si fanno, io qualche idea l'ho lanciata su questo territorio di impegno, possiamo andare avanti per difendere questo territorio che sicuramente, ne ho parlato col Presidente Emiliano, ho detto che accettando questa candidatura io lo voglio al mio fianco e lui è stato molto attento alle istanze di questo territorio, io penso che con me qui lo sarà in maniera uguale e forse anche con un'attenzione, sapendo le capacità con cui saprò rompergli le scatole per tutti i problemi, penso che lo sarà anche un tantino in più, dedicandosi con attenzione a questa comunità di questi sei comuni che in qualche circostanza può aver avuto anche qualche dimenticanza. E allora, naturalmente con Francesco Spina ci vedremo nelle prossime settimane proprio per approfondire i temi di questa campagna elettorale, oggi l'abbiamo sfruttata più che altro per fare conoscenza di Francesco Spina, gli altri comuni che non siano bisceglie di questo collegio, che hanno bisogno proprio di conoscere personalmente Francesco Spina e per potergli tastare il polso e capire se c'è la possibilità di avere fiducia in lui per questo appuntamento elettorale. Nei prossimi entreremo davvero nel dettaglio dei temi di questa competizione elettorale. Ringraziamo dunque Francesco Spina, che vi ricordo essere il candidato del Partito Democratico nel collegio uninominale Puglia 3, quello che mette insieme i comuni di Biceglie, Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo e Corato. Grazie per essere stato con noi, l'appuntamento per tutto e sempre nei prossimi giorni con elettori ed eletti verso il voto del 2018. Grazie per essere stati con noi, buonasera.